Ciao a tutti ragazzi sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con un super squad builder Uno squad builder con 3 team of the year, 3 giocatori toti e tantissima qualità Andiamo subito con il portiere, qui avete due scelte, o mettete Salvatore Siriku o mettete portiere Iker Cacillas Io sinceramente ho preferito Salvatore Siriku che secondo me è il miglior portiere del gioco Me ne ha parate tutte di tutti i colori, veramente forte, alto e perfetto Come terzino destro andiamo in Ligue 1 in Francia e possiamo mettere Van der Ville, Gregory Van der Ville Terzino destro olandese del Paris Saint Germain, altro normale di Warcruz, ottimo giocatore, abbastanza veloce, delle buone statistiche Andiamo poi con il primo team of the year, Thiago Silva Totti, il difensore per me più forte del gioco in assoluto 86 di velocità, 95 di difesa, 89 di fisico, normale e alto di Warcruz è la cosa più importante Questo giocatore è fantastico, ragazzi, vi prende di tutto Vi acchiappa tutti gli attaccanti veloci della squadra, veramente, cioè veloci delle squadre avversarie, veramente troppo forte Secondo difensore centrale Andiamo in Liga PPVA Quello qui Sergio Ramos, Totti, secondo Totti della squadra Lui ha l'unico contro, forse il Warcruz, ma è talmente veloce, talmente fisico Che con un'accelerata vi ritorna subito, vi si ritorni in posizione Veramente un giocatore fantastico, come vedete qui, primo proprietario è stato trovato in un pack Veramente un giocatore meraviglioso A sinistra, sempre il Liga PPVA, potete scegliere fra Contrao, Marcello o Jordi Alba Io direi di mettere Marcello, che mi è piaciuto di più di tutti e tre 81 di velocità, 79 di fisico, che è molto importante Anche se è veloce e ha un buon dribbling Questo giocatore vi riesce a contrastare bene gli attaccanti avversari In particolare le ale, che poi non sono molto, diciamo, molto fisiche di solito Andiamo con il centrocampo, il primo centrocampista centrale è Blaise Matuidi del Paris Saint Germain Anche lui, alto alto di Warcruz, una specie di regista occulto, possiamo dire Perché non sembra, ma ha delle ottime statistiche di passaggio È buono a difendere, con una buona velocità E anche se è bassino, vi prende diversi palloni alti, quindi va bene così Secondo, Cicci, ci andiamo a mettere sempre in Liga BBVA E qui, no, non in Bundesliga 2, eccolo qui Cicci, ci mettiamo Toni Kroosniff, non ho voluto prendere la pressione Toti 5 stelle piede debole, 89 di passaggio Queste sono le caratteristiche più importanti di un giocatore meraviglioso Meraviglioso, vi fa dei passaggi, dei lanci fantastici Ed è molto importante in questa squadra Forse è il giocatore più importante perché è colui che vi riesce a innescare Con il triangolo, quindi con i passaggi filtranti Le due ale che sono poi la devastazione di questa squadra Come Cicci, cambiamo campionato, infatti questo è uno squad builder con 3 campionati Andiamo qui e ci mettiamo Cesc Fabregas, spagnolo del Chelsea Altro normale di Warcats, fantastico Anche lui 88 di passaggio, quindi qui avete 88 e 89 Un giocatore meraviglioso per me Uno dei Cicci più forti dopo Ames Rodriguez Per me il più forte di tutti Che va a fare? Strong link con lui Diego Costa Strong link, perfect link con Diego Costa Anche lui spagnolo del Chelsea 82 velocità, 83 di tiro, 88 di fisico Per me l'attaccante più forte che io abbia provato Proprio il centravanti più forte che io abbia provato Insieme a Benzema, veramente molto forte Magari pecca un pochettino nel dribbling Però a quelle 4 stelle piede debole Ha una buona velocità che sembra superiore a 82 Un super giocatore Poi concludiamo la squadra Alla destra Avete già capito? Lukas Un ottimo giocatore anche lui 4 stelle possibilità Dribbla bene Devo dire che dà anche una buona mano in difesa È molto veloce Anche se poi 44 di difesa Però sapete che aiuta un po' Ma poi dobbiamo andare per forza a prendere lui Il giocatore più forte della storia di FIFA Cristiano Ronaldo Toti 99 di overall 98 velocità 99 di tiro 90 di passaggio 99 di dribbling 89 di fisico 5 stelle Mosse abilità 4 piede debole Un giocatore fenomenale Ragazzi È stato un sogno provarlo È il giocatore più forte che io abbia mai provato È perfetto Secondo me Rende meglio in realtà Da ATT Da punta centrale Ma in questa squadra ovviamente sta meglio Come AS Dobbiamo dare pure 100 di intesa Giustamente Ragazzi Se gli date dello spazio Lui non Non vi Non vi devluderà mai Dribbla in maniera pazzesca Tira da fuori delle bombe pazzesche Avete visto diverse clip nella mia review Che io nel frattempo vi invito a vedere E devo dire che Per me Il giocatore più forte che io abbia mai provato Dunque la squadra è questa Per quanto mi riguarda È la squadra più forte che io abbia mai provato Soprattutto quest'anno Secondo me invece Qual è la squadra più forte? Fatemelo sapere Con il link di Footed Nei commenti Fatemi sapere se questa squadra vi piace Ovviamente ve la consiglio Se avete tutti sti soldi Se non ce li avete Potete anche provarlo a fare Con le versioni NIF Ma comunque È una signora squadra Forse la squadra più forte del gioco Ci vediamo nei prossimi video Bella a tutti Da Ben